Arezzo perde uno dei suoi industriali storici. È scomparso all'età di 83 anni Pasquale del Tongo, fondatore con il fratello Stefano scomparso nel 2016 del mobilificio del Tongo, chiuso nel 2018. L'azienda di cucine divenne famosa dall'82 al 91, quando fu sponsor di una delle più apprezzate formazioni professionistiche. Con la maglia della del Tongo Giuseppe Saronni vinse il campionato del mondo, Giro d'Italia, Giro di Lombardia e Milano Sanremo. Con la del Tongo ha vinto il Giro d'Italia del 91 il valdarnese Franco Chioccioli, nell'86 il Giro di Lombardia a Giovanni Battista Baronchelli. La famiglia del Tongo fu al centro della vicenda legata al rapimento del figlio di Pasquale del Tongo, il piccolo Francesco, che all'epoca dei fatti aveva 10 anni. Sequestrato ad Arezzo da una frangia dell'anonima sarda che operava in Toscana il 18 marzo 1980, il piccolo venne liberato dopo 100 giorni il 15 giugno dell'80 di domenica mattina nella zona di Volterra. I funerali di Pasquale del Tongo si svolgeranno domani nella chiesa di Spoiano, nel comune di Civitella.